Ben trovati telespettatori, siamo a Roncaglia di Cibo, in Valtellina, dove ha sede la nuova RSA, la Residenza Sanitaria Assistenziale, data in gestione a Casa di Cura Ambrosiana e Fondazione Sacra Famiglia. Sono in compagnia del dottore Giampiero Frassi, buongiorno dottore. Buongiorno, benvenuti in struttura. Che ci introdurrà appunto a questa struttura ripercorrendo un po' le tappe della sua nascita? La struttura nasce nel 2017, viene aperta, fa parte di un contesto molto più ampio che fa capo a Istituto Sacra Famiglia che ha festeggiato nel 2017 120 anni di presenza sul territorio Lombardo con 23 strutture sociosanitarie che è una struttura ospedaliera, Casa di Cura Ambrosiana, che nasce nel 1968 proprio per dare risposta ai bisogni medico e chirurgici degli ospiti di Istituto Sacra Famiglia. Casa di Cura Ambrosiana è oggi gestore di questa realtà, realtà che nasce dal territorio sulla volontà del territorio, che ha espresso il desiderio di avere una casa di riposo per i propri parenti, ospiti ed è oggi la sintesi di tutto l'impegno, il lavoro e le capacità che Istituto Sacra Famiglia ha acquisito in questi 120 anni di presenza territoriale. Dottore, quali sono i valori che vi proponete di portare avanti in questa RSA? Sacra Famiglia da sempre si prende cura delle persone con disabilità gravi e gravissime, segue anche gli anziani e le persone fragili. I servizi offerti sono di residenzialità, centri diurni e comunità alloggio, con oltre 1096 posti per la disabilità e 570 per la cura dell'anziano fragile. Questa struttura nasce anche grazie all'appoggio al partenariato della Fondazione Pedrolli dell'Oca, la quale ha contribuito e sta contribuendo tuttora allo sviluppo di questo progetto, che noi crediamo essere una risposta concreta ad un bisogno del territorio. Infatti la nostra struttura si caratterizza proprio per affrontare quelli che sono oggi i bisogni e la domanda prevalente che il territorio sta incontrando. Con il territorio intendo anche le famiglie e le persone più bisognose. Grazie dottor Frassi per averci introdotto a questa struttura che adesso andiamo a scoprire meglio e oggi incontriamo la dottoressa Mayan Sussele. Eccoci con la dottoressa Mayan Sussele. Buongiorno dottoressa. Buongiorno e benvenuti. La dottoressa che è direttore medico della sede lecchese della Fondazione Sacra Famiglia e che mette a disposizione però anche di questa struttura una lunga esperienza con l'anziano maturata proprio alla Fondazione Sacra Famiglia. Dottoressa, come mai avete deciso di aprire una RSA proprio qui? Ricordiamo siamo a Roncaglia di Cibo, in Valtellina, una frazione immersa nella natura. Il progetto fortemente voluto dal territorio, dalla Fondazione Pederoli dell'Occa e dalla nuova colonia ha pensato per una riqualificazione del territorio di costruire questa struttura qui dove una volta c'era una vecchia colonia e proprio per quello si è pensato di costruire questa RSA. Un RSA che è Residenza Sanitaria Assistenziale che viene appunto gestita di casa di cura Ambrosiani Sacra Famiglia che ha un'esperienza pluriannale nella gestione dei pazienti anziani sia con servizi territoriali come sono l'assistenza domiciliare o i centri di urno integrato che con servizi residenziali come l'RSA, gli allogli protetti per anziani in tutta l'Italia. Com'è strutturata questa RSA? Questa struttura ha 80 posti letto di cui da un minimo di 20 fino a 40 vengono utilizzate per l'accoglienza di persone anziane. Ecco una caratteristica di questa nostra struttura che è immersa in questa natura meravigliosa con una vista stupenda sulla valle è che qua accogliamo anziani sia non autosufficienti con necessità di prestazione sociosanitaria di altamente qualificate che vengono erogate secondo piani di assistenza specifici pensati ai bisogni della persona e della sua famiglia che grazie alle caratteristiche di questa meravigliosa struttura con delle caratteristiche alberghiere importanti per l'accoglienza di ospiti autosufficienti o che hanno bisogno di minima assistenza che possono godere proprio della qualità strutturale e della luminosità della struttura e di tutti i comfort che può dare la struttura. So che sono presenti sia camere singole ma anche doppie mi diceva? Quasi tutte le camere sono singole, molto spaziosa con una vetrata che dà sulla valle con una vista stupenda come dicevamo prima. Le camere doppie sono state pensate per l'accoglienza di coppie fondamentalmente ma anche queste camere doppie sono state concepite rispettando gli spazi di ognuno, la privacy di ogni ospite che viene accolto in queste camere. Di solito un paziente per quanto permane in questa struttura? Ci siamo organizzati di maniera di poter dare accoglienza, dare una massima flessibilità nell'accoglienza degli ospiti. Le permanenze possono essere anche di breve periodi di tempo e una settimana per dare risposta ai bisogni di famiglia che durante tutto l'anno si prendono cura dei propri cari e hanno bisogno di un periodo di sollievo, quindi di ricovero di anche una settimana di tempo fino a ricoveri di medio tempo per qualche periodo finché le famiglie riescono a trovare magari strutture più vicine alla propria residenza. Altri invece decidono di fare della nostra struttura al luogo di vita. So tra l'altro che uno dei problemi molto spesso che si incontrano quando si decide di rivolgersi a una di queste strutture sono i tempi di attesa. Infatti i tempi di attesa di solito sono molto lunghi, noi ci siamo organizzati anche qua in modo flessibile di maniera di poter accogliere in pochi giorni, se una volta presentata la domanda in pochi giorni siamo in grado di accogliere e ospitare gli anziani dando risposta a quelle situazioni ed emergenza, emergenza che possono essere sociali, sanitarie e di accogliere immediatamente. In che cosa consiste invece la parte che definite del sollievo? Allora sempre mantenimento delle tradizioni, ok, visto che qua una volta c'era una colonia che era stata costruita negli anni 30 per accogliere dei bambini che arrivavano delle grandi città nel periodo dell'industrializzazione e poter godere di un clima giustamente favorevole, dei momenti di relax, abbiamo pensato grazie alle caratteristiche dell'alberghiera della struttura di accogliere persone anziane che vengono qua a passare un periodo di tempo nella natura dove possono comunque avere momenti di socializzazione perché possono partecipare ai momenti di attività ludica e recreativa che vengono organizzate avendo comunque una protezione socio-sanitaria che nella persona anziana è fondamentale e molto importante. Tra l'altro spesso immagino si tratti di periodi magari estivi? Soprattutto durante il periodo estivo perché durante il periodo invernale purtroppo il clima non è tanto favorevole, invece durante il periodo estivo, primavera, estate e inizio dell'autunno, qua il clima è meraviglioso. Dottoressa, proprio per erogare questi servizi di cui ci parlava, un'equipa professionale? Noi mettiamo a disposizione un'equipa multiprofessionale formata da medici, infermiere, fisioterapista, educatori, operatori socio-sanitari e con esperienza plurinare nella cura delle persone anziane come caratteristico di Sacra Famiglia. Dottoressa, io la ringrazio molto per averci illustrato questa parte della struttura e per averci ospitato. Grazie mille.